Sascha Tattoo ospita il quartier generale dei festeggiamenti radiofonici, televisivi, tutti i festeggiamenti per questa vigilia di Natale, i gruppi emergenti, c'è un po' di tutto qui dentro, come mai questa scelta? Ma perché siamo aperti a tutte le attività artistiche, mi piace avere uno studio vivo, quindi mi piace la contaminazione con tutte le forme d'arte e poi sono contenta che l'Aquila possa avere comunque un palcoscenico per esprimersi e ridare un attimo di vita e di felicità insomma. Un balcone che affaccia sul cuore dei festeggiamenti della vigilia, che sensazione si prova? Beh guarda, sono onoratissima, è uno dei balconi più ambiti e più belli dell'Aquila, lo devo dire, è stupendo e sono contenta di condividerlo. Facciamo un augurio ai nostri telespettatori? Assolutamente sì, tanto amore a tutti e buon anno e buon Natale!